Ciao a tutti amici, oggi vi propongo questi cantucci senza lattosio e useremo soltanto gli albumi, quindi è una ricetta recicla albumi. Iniziamo inserendo nel boccale del Monsier Cusino del Bimbi la farfalla, 4 albumi, un pizzico di sale e iniziamo a montare per 4 minuti a velocità 4. Inseriamo in 200 g di zucchero una bestina di zucchero vanigliato. Mentre il robot monta aggiungiamo lo zucchero e 65 g di olio di semi di girasole. Togliamo la farfalla e spostiamo il composto sul fondo. A questo punto aggiungiamo 400 g di farina, io uso la farina zero, e poi un cucchiaino di ammoniaca. Anche un cucchiaino di lievito per dolci va bene. Ora selezioniamo la modalità impastare per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo 200 g di mandorle e impostiamo il robot 30 secondi a velocità 2. Trasferiamo sul piano di lavoro e continuiamo a impastare un poco con le mani. Formiamo tre filoncini con l'impasto e inforniamo in forno già caldo e ventilato a 180 gradi per circa 25 30 minuti. Terminata la prima cottura lasciamo intepidire un pochino qualche minuto e poi tagliamo con un coltello alla maliscia i cantucci che posizioneremo su una teglia che andrà nuovamente in forno già caldo a 180 gradi per circa 15 20 minuti. I nostri cantucci sono pronti. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Lasciate il vostro like in questo caso e iscrivetevi al canale attivando la campanella così sarete sempre aggiornati sulle ultime ricette.